Partenza con il piede giusto alla Palasassi per la Virtus Matera nel campionato di basket di serie C Silver contro l'Assi Brindisi, 98 ad 82 il risultato finale. Gara all'inizio equilibrata, una piccola flessione nella terza frazione per il Matera che va sotto di 9. Risale poi la China con grande forza e la Brindisi però torna in gara raggiungendo su 73 pari Biancazzurri, ma alla fine le triple di De Molast, Selis e Castoro portano il punteggio a sicuro e verso la vittoria. Era importante rompere il ghiaccio con il nostro pubblico subito con una vittoria, non è stato facile, Brindisi nei primi due quarti ci ha dato più di un grattacapo, hanno tirato con il 68% dal campo e quindi a essere continuato così avremmo avuto ancora più problemi, non che non ce ne abbiano dato, non hanno mollato mai, poi la partita si è chiusa all'inizio del quarto quarto con i due antisportivi a Rolic. Noi molto bene, in attacco siamo stati quasi perfetti, dobbiamo registrare qualcosina in difesa, poi le partite ci aiuteranno in questa cosa. Ora andiamo a Lecce per fare il risultato sicuramente perché dobbiamo cercare sempre di imporci per la squadra che abbiamo, però anche loro, Lecce è una squadra costruita per vincere, sarà una gara combattuta al vertice e quindi dopo quella Francavilla sono i prossimi due step. Dopodiché abbiamo Bari, dobbiamo cercare di arrivare a Bari con un bel poker di vittoria.